M.P. qui M.M.5, appostato nelle vicinanze dell'ultimo rapporto. Dove cazzo sono quegli stronzi? Il treno doveva essere qui dieci minuti fa. Arriveranno, non possono scendere da quel treno. State in campana, ragazzi. E ricordate, a quello stronzo di Dunham ci peserà Nigel in persona. Non vedo l'ora. Fermi! Che cazzo vuole? Scusate, siamo della Paramount Pictures. Giriamo all'ultimo film di Hugh Grant. Dobbiamo portare le attrezzature. Un film di Hugh Grant? C'è qualche bella fica? Cameron Diaz, credo. Beh, mi viene duro solo a pensarci. Va bene, fate passare il camion. Grazie. Dammi 30 secondi, dopo se fossi in te sparirei da qui. Gli gruppi sono venuti a contatto. Se ne sta notando di santa ragione. Guardate una squadra, non devono fermarli. Non fate male! No fate male! Non diemo fermarli. Fuera! Fuera! No, 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 no. No, 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 no.